Omero non vuole lettori. Omero ha preteso ascoltatori e nell'ascolto si dischiude un registro dove abita l'immaginazione, la possibilità di tracciare e quindi disegnare e quindi l'immagine, l'urgenza di essere attraversati da parole nude che diventano storie. L'avventura più potente e più coinvolgente non è stata tanto quella di dover preparare un legno, bruciarlo, renderlo duro e incandescente per penetrare l'occhio del ciclope. Non è stata neppure quella di far colare la cera nelle orecchie dei propri compagni e farsi attraversare dal canto struggente e inesorabile delle sirene. E neppure quella di astuzia e di fatica di dover piegare un arco altrimenti impossibile da secondare altro braccio che non fosse quello dell'eroe. La sua avventura più forte, più impegnativa e il suo jihad, vorrei dire, fu quello che coinvolse se stesso in interiore e omine quando Ulisse, mettendo una cesura tra l'inizio e la fine di questo canto, nel bel mezzo, in tutto quel bel mezzo che c'era, si lasciò alle spalle le avventure, si lasciò alle spalle gli incontri, si lasciò alle spalle l'orrido che aveva dovuto affrontare per un dispetto fabbricato dagli dèi. E chissà che anche adesso, in questa nostra giornata, in questa sala, chissà tra voi se non sono celati loro, dispettosi sebbene occultati alla storia, al secolo e al mondo, chissà che questi stessi dèi, ogni volta che viene evocato quel contorno di parole, di suoni, di simboli, di zoologie stravaganti e di acqua, chissà che non siano ancora una volta presenti, perché evocati proprio nel nome dell'eroe che li rallegrò, li divertì, li commosse ogni volta che si ritrovavano insieme nel loro consesso. E l'avventura più forte fu quella che lui visse dentro di sé, perché questa sua storia altro non è, e non suoni quasi una di minuzio, l'apoteosi di un matrimonio. Perché quando noi lo vediamo guardare il mare, un mare a lui intimo ma sconosciuto, quando noi lo ascoltiamo e sentiamo scorrere nella nudità e nel silenzio di quelle sublimi parole inventate dal suo aedo, noi sentiamo quindi le lacrime sgorgare dal suo viso, sappiamo che quelle lacrime diventano un unico fiume, quasi come una divinità indiana che riesce a commuoversi al punto tale che nel cuore raggelato quelle lacrime diventano neve, ghiacci e quindi malaglia. Allo stesso modo noi, che sappiamo quanto forte sia quel sole mediterraneo, sappiamo che quelle lacrime, evaporando, lo trasformano in una sorta di nebbia narcotica, senza per questo avere ancora il bisogno di vedere i suoi compagni stordirsi con i lotofagi. Può essere quindi un velo di potente malinconia che fa sì che quelle sue lacrime diventino lo specchio del mare, a lui sconosciuto ma intimo, allo stesso tempo che gli impone questo viaggio. Ed è tutta una serie di rimandi, di ritardi, di accadimenti, che hanno necessità soltanto di parola nuda, perché la tecnica era sempre soltanto quella di affidare le parole ad uno spazio perfetto. Nel frattempo che gli astanti si sono rasserenati in una libagione gradevole, o hanno appena fatto l'amore, o forse hanno concluso un ragionamento, una discussione, o magari sono in attesa di prepararsi ad una battaglia, è in quell'istante sospeso perfetto che gli dèi vollero concedere agli umani che si consuma il rito dell'ascolto. E il primo ad ascoltare è innanzitutto l'Aedo, il primo ad ascoltare è innanzitutto colui il quale offre la propria voce affinché l'eroe prenda forma nella forma che ognuno di noi sa dare, vuole dargli, e immaginarlo chissà, magari con le croste di sale che il mare gli ha lasciato, e immaginarlo magari con le ferite e i graffi, e con gli insulti delle battaglie che gli sono rimasti a fare la topografia di questa avventura perfetta, ma quello che resta integro in lui, sebbene sia stato abbracciato e baciato da tante donne, sebbene sia stato turbato e ferito da nostalgie irreparabili, quella verso il figlio, quello verso il padre, quella verso la sua nutrice, quello verso il suo cane, su tutte c'è soltanto una meta, Penelope. Ed è ben singolare come nel racconto l'oralità che si impone davanti a questo mito sia quella di apparecchiare un destino che è comune agli uomini e alle donne che ascoltano, agli uomini per farlo identificare negli affari giusti e virtuosi dell'uomo dal multiforme ingegno che adopera le astuzie, perfino la truffa, il raggiro, l'inganno per realizzare invece uno scopo meritevole che è quello di restituirsi al ciclo della vita. E immaginiamo quindi che queste croste di sale in lui siano servite perché sporco e lacero, smacchiato perfino dalle alghe, si presenti ad una principessa, una principessa fragile, eppure trasparente dal suono meraviglioso oppure alle sue maghe oppure ancora a coloro i quali riescono a trascinarlo in quella che forse adesso nel nostro 2013 può essere la tentazione e che invece per lui nel suo tempo, nel suo tempo sospeso datogli dagli dèi, è la necessità di scavare dentro se stesso e squadernare il suo cuore in una mappa dove il mondo diventa grande, grande fino a superare fino ad oltrepassare i confini. noi non abbiamo necessità di volerlo inquadrare storicamente perché perfino il suo autore, perfino quel nome a cui noi abbiamo affidato un totem, Omero, nel battezzare lui si affidò al dispitto di una consonante e quindi Odisseo, Olisseo, i copisti ebbero grande confusione quando scambiarono la D con la L i copisti cercarono di custodire i preziosi versi ma erano appunto il canovaccio e chissà che tra tutti i nessuno il più nessuno tra i nessuno non sia stato proprio l'autore e allora vogliamo immaginare che sia stato proprio lui questo sovrano questo re a voler creare dentro di sé un combattimento uno sforzo una guerra che gli consentisse finalmente di raggiungere il proprio scopo Agamennone sovrano riconosciuto ritornò nella propria casa dopo quella interminabile guerra e subì l'affronto di essere ammazzato dall'amante della moglie e invece per tanto tempo dopo quel tanto tempo dopo quel lungo assedio il peregrinare imposto a quello che era più ben voluto dagli dèi ma allo stesso tempo sottoposto alle più dure prove gli si prospetta un'apoteosi di fedeltà gli si prospetta una giostra d'amore un torneo del cuore che farà di Ulisse l'apoteosi dell'amore perfetto quasi un de Berzerac quasi come a voler costruire intorno a questo mito senza nulla togliere a Goia che lo vole rappresentare nel momento plastico dell'aggressione a Polifemo senza nulla togliere a tutte le immagini che ci siamo fatte perfino quella molto bella televisiva dell'eroe noi dobbiamo immaginare un'anima purificata un fedele d'amore dobbiamo immaginarlo quindi in questa sua continua ascesi fatta di carne e naufragio e come tutte le storie che ci riguardano questo che è il fondamento della civiltà letteraria occidentale è allo stesso tempo un archetipo della civiltà letteraria universale perché in lui noi ritroviamo lo schema di viaggio e di racconto e di voce che in ogni piazza in ogni strada in ogni consesso laddove c'è chi ha la possibilità di prenderne i fili e far muovere il personaggio affinché ognuno di noi lo veda e ne veda con lui la propria stessa vita c'è un prologo e il suo prologo è in ventre ho sempre avuto curiosità di come un eroe sia a disposizione di tanti di tutti non appartiene all'autore la maggior fortuna forse è quella di non aver avuto un autore ma non vorrei dire un popolo le genti che lo hanno seguito e lo hanno fatto vivere un po' come le maschere perché se esiste una differenza fra la messa in scena dell'Odissea e la messa in scena canonica cui siamo abituati giorno 11 maggio cominceranno le rappresentazioni al teatro greco di Siracusa se esiste dunque una differenza fra la messa in scena di Odissea e le tragedie greche sta nel fatto che le tragedie hanno necessità di persone cioè le maschere maschere che non servono soltanto ad aiutarci nell'identificazione dei vari personaggi ma perché nella deformità del suono obbligata è quasi un modo di affidare le singole voci le parole alle emozioni alle storie perfino alla psiche perfino alle onde telluriche che attraversano ogni rappresentazione sacra sacrissima nel lagone della tragedia e la differenza invece con la messa in scena dell'Odissea è nell'essere sgombra da qualsiasi appiglio tecnico che non sia quello della parola per cui ci si appoggia di volta in volta a dei momenti di descrizione nel frattempo che la memoria soccorre e quindi il flusso della narrazione prende avvio la differenza è che non c'è parola scritta non lasciatevi fuorviare da quello che è il canone a cui noi facciamo riferimento apprendo il libro dell'Odissea e dell'Iliade di volta in volta è una parola viva che ha generato che ha gemmato e mi piace mi piace dunque farvi dimostrazione di come accanto a tutte le famose prove di cui abbiamo memoria che abbiamo avuto per tramite di letteratura tantissime basta ricordare siamo qui a Torino come abbia fatto Capolino l'Odissea in Via Po quando si incontrarono un giornalista della stampa e un professore di greco che parlarono di una storia d'amore remota preziosa delicata l'amore notate l'amore altro che il contorno di astuzzi inganni l'amore parlarono di Ligea e fu Tomasi di Lampedusa ad ambientare a mettere in scena a Torino questa meravigliosa storia d'amore ancora una volta sì proprio perché l'amore compete ai guerrieri l'amore compete ai soldati l'amore compete ai militi ancora una volta sembra come come un Sirano de Berzerac trasferito lì tra i lì di Greci e questa volta Tomasi Lampedusa lo seppe adattare lo seppe adattare alla vostra città e poi ancora certo quello sforzo interiore in interiore omnis che diventa monologo con Ulisse di Joyce e poi ancora e dopo vorrei dare una pennellata maliziosa nel canone dantesco dell'Ulisse di Dante che venne concepito proprio come materia orale e sarò malizioso e lo spiegherò dopo perché c'è qualcuno che invece ne fa un'opera di sporcificazione pop che non riguarda invece la perfezione poetica che solo uno forse nella nostra memoria contemporanea non Vittorio Gasman che fu bravissimo bensì Carmelo Bene seppe dare nella tonante voce di Dante che pescò proprio Ulisse tra le fiamme sebbene bruciato ancora grondante di mare e non posso non iniziare quindi questo nostro incontro con Ulisse con una lettura il prologo in ventre appunto siamo trenta siamo ottanta siamo tanti da non contarci nel buio di una notte saliamo nel nuovo buio di questo ventre di legno uno dopo l'altro in questo vascello cieco che navigherà per mezzo miglio di spiaggia fino a portarci dentro le mura di ilio siamo cento siamo mille siamo così tanti che neppure chi sa contare saprebbe contarci stipati nel fetore di questa bestia d'acero conviscere d'uomo addossati chi alle pareti chi agli altri tremanti contro tremanti costretti a fare solo silenzio ed è per questo che siamo tanti perché chi sa contare sa quanti militi servono in tutto affinché restino vivi quanti ne bastano ma è un conto che non spetta a noi e neanche i re si danno pena a farlo perché di un guerriero si contano forse solo le spade che ha o gli elmi o quante ombre lascia dietro di sé quando ha il sole davanti e noi militi questo siamo arsenale di chi ci comanda armi che marciano mura semoventi per fargli corazza ombre che i re lanciano a sorte contro il nemico sperando di cavarne vita per sé gloria agli dèi e chi muore di noi non è mai morte d'uomo e spada caduta lancia spezzata schianto di scudo loro guerrieri noi guerra ecco questo è il prologo è la storia meravigliosa che da secoli accompagna le nostre generazioni e io l'ho trovato in un libro recente scritto da Sergio Claudio Perroni edito da Bompiani dal titolo nel ventre e la descrizione di quello che succede nel ventre del cavallo il cavallo che viene posizionato tra le mura e viene posizionato davanti a Ilio ovvero a Troia che voi viene portato dentro e che è il lampo definitivo attraverso cui Ulisse risolve un assedio di dieci anni un assedio che non aveva potuto avere conclusione militare se non affidata proprio a questa sua urgenza e mi piace immaginare in lui il bisogno di fare presto mi piace immaginare in lui la necessità di radunare intorno a sé quanti più uomini validi al combattimento mi piace immaginare intorno a sé anche la consapevolezza di dover dialogare in un colloquio muto con la dea Atena che aspetta lo svolgersi degli eventi dieci anni di assedio che vengono risolti in questa soluzione fatta di legname acero e poi i corpi tutti dentro e le lance e le spade e gli scudi e il buio e questa immagine bellissima del legno che custodisce visceri che sono uomini dove di volta in volta un leggero movimento ne provoca la morte a qualcuno e la preparazione di quello che poi verrà raccontato dopo ed è così noi lo raccontiamo attraverso tante forme e lui Ulisse viene viene a noi smontando passo dopo passo tutte le impressioni superficiali che ci siamo fatti su di lui allora multiforme ingegno vedete nel primo canto lui all'inizio non viene presentato attraverso un'azione ma nella descrizione di quello di lui e questo è il presagio del combattimento ulteriore quello interiore altrimenti lo avremmo visto impegnato in un'azione pensate che differenza con l'Iliade l'Iliade è tutto un susseguirsi di muscoli combattimenti di trovate di colpi di scena invece lì ci sono le avventure ma che cos'è che rende diverso questo nostro eroe da tutto il resto che poi è diventata scrittura io faccio una piccola incursione in quella che è in quello che storicamente è il momento massimo di confusione benefica tra l'Asia e l'Europa noi siamo profondamente asiatici siamo profondamente asiatici proprio perché abbiamo colto da loro la tecnica fondamentale che è quella della parola i presocratici infatti avevano in sospetto la scrittura avevano in sospetto la scrittura tant'è vero che Pitagora quando radunava i propri discepoli li portava nelle spiagge dove aiutandosi con un bastone segnava e tracciava i suoi insegnamenti che poi se non fosse stato per il vento magari poi interveniva lui con la mano venivano cancellati e Platone quasi si dispiace e se ne fa un rammarico di dover scrivere ciò che è l'insegnamento del suo maestro Socrate era fatto e affidato alla parola ed era così nel senso stesso del passare da labbra a orecchio ed era il vero atto di comunione dei nostri progenitori che era quella di voler affidare la parola a un qualcosa che si affinasse quasi come in un alchimio vogliamo immaginare un distillato una grappa la perfezione di grappoli ridotti a poltiglia e quindi lasciati macerare e poi nell'alambicco trasformati in qualcosa che fosse sempre più puro sempre più bello sempre più aggiustato per cui di volta in volta questi aedi si passavano le storie e ognuno o la belliva o la asciugava o comunque andando avanti diventava sempre più bella sempre più giusta tant'è vero che tracce di questi aedi li trovate perfino nel verismo perfino nelle pagine di Giovanni Verga quando c'è la descrizione degli scogli di acitrezza quegli scogli altro non sono che i pezzi di pietra i macigni che Polifemo da Etna scagliava contro Ulisse nel momento in cui lui tra le sue astuzie volle battezzarsi nessuno e quindi questa scena che ha accompagnato la mia infanzia veniva riferita dai cantastorie dove si vedevano i ciclopi preoccupati dalle urla del fratello schiacciato da questo pazzo dolore in fronte e a domandare chi ti ha accecato nessuno mi ha accecato ed era quasi una battuta degna della tradizione di franche ciccio che ci faceva sbellicare dalle risate vedendo proprio il paradosso vedendo proprio la situazione comica vedendo proprio come tutta quella vicenda poi arrivava dentro le case dentro gli anni sessanta d'Italia dentro gli anni settanta dentro gli anni ottanta adesso da noi in questo duemila dove non possiamo fare a meno di Ulisse ma non perché dobbiamo bearci della consapevolezza di avere si fatta erudizione ma perché ritroviamo un ammaestramento un divertimento un'emozione una potenza di parola che è il modello per ciò che verrà dopo è singolare dunque che la letteratura e la cinematografia e la pittura e l'arte tutta e la vita di ognuno di noi abbia preso e trasformato Ulisse perfino in una metafora che è la tomba dei veri eroi l'eroe non deve mai diventare metafora l'eroe deve essere piuttosto carne piuttosto si deve incarnare reincarnare e quando noi lo vediamo lo vediamo stanco delle battaglie quando lo vediamo intento a fabbricare la zattera quando lo vediamo con le sue lacrime a far tutt'uno col mare quando lo vediamo affrontare le onde e con lo sguardo scorgere dove ci fosse la possibilità di vedere quel giovine bello astuto si lui si astuto bello astuto malizioso sorridente quel giovane dio che si accompagna al tirso cavalca i delfini e nel mediterraneo lui quel giovane dio fa capolino in un angolo in una scena a parte delle avventure di ulisse dioniso lo accompagna lui invece ancora una volta si dedica alla sua dea alla dea che invece non è non è ragione non è la ragione per come vogliamo credere no è la è la dea che invece gli sta accanto per metterlo alla prova e gli impedimenti che trova sempre davanti a sé in questo suo errare non fanno altro che fabbricare lui l'amore concentriamoci quindi nella scena finale dall'inizio andiamo direttamente alla fine si presenta al cospetto dei suoi cari nelle vesti di un mendicante e se ricordate dice alla casa che un tempo questa casa era riconosciuta presso tutti i miserandi dell'ade come la casa che ospitava i mendicanti e ovviamente ovviamente il patto sacro di misericordia verso il mendicante non viene meno sebbene da molti anni manchi il padrone di casa e viene accolto viene accolto e lui nella veste di mendicante riesce a riconoscere i segni di una trasformazione perché nel frattempo che l'eroe è bloccato dagli impedimenti la vita prende un altro corso la vita va avanti e la sua preoccupazione è di riconoscere più che di farsi riconoscere di riconoscere i saldi i legami le radici l'amore che aveva seminato la sua prima preoccupazione è di riconoscere gli altri e di riconoscere quindi il figlio di riconoscere il cane di riconoscere la nutrice di riconoscere il vecchio padre di riconoscere Penelope la sua prima ansia è quella di vedere quanto di ciò che aveva seminato ha dato finalmente frutti e il figlio non è più un bambino è nell'età di colui il quale vive il disagio di vedere la propria casa sotto assedio di vedere quest'orda di nobili che pretendono la mano della madre di vedere dunque come quelle stanze rese sacre da un re legittimo erano diventate ormai luogo di un baccanale è consapevole pertanto di un destino che bussa alle sue spalle se mai la madre accettasse di sposare uno di quelli sicuramente lui sarebbe destinato a morte o peggio ancora all'esilio e poi e poi il padre il padre che si ritira in campagna a lavorare e quando riconosce Ulisse tornato a lui quel padre riprende forza e lui capisce Ulisse che nel riprendere forza c'è finalmente il flusso cosmico di sangue e memoria che si sveglia e poi il cane che gli muore davanti in un guaito delicato dolce struggente quel cane e Francesco me l'hai ricordato è così simile a quella sura coranica dove tra i sette dormienti a custodire il sonno di questi sette c'è un cane paziente animale in attesa del compimento e quindi farsi riconoscere dai nemici farsi riconoscere dai nemici affidandosi ad un arco ad un'arma non c'è niente di più nobile non vorrei offendere nessuno nessuno ne abbia male ma non c'è niente di più nobile dell'arma ogni uomo è destinata ad un'arma e le donne devono amare gli uomini che sanno tenere un'arma e le donne attendono che gli uomini sappiano come tenere in pugno una spada un arco perfino un coltello e quello è l'arco l'arco del re l'arco di Ulisse vedete un po' ricorda come la spada nella roccia solo chi è meritevole può sottrarre dalla stretta della pietra la spada e solo chi è meritevole chi è degno può piegare quell'arco e Penelope che aveva anche lei fatto uso di astuzie di inganni di ritardi lei che tesseva e scioglieva lei che in un lampo propone i suoi pretendenti di poter piegare quest'arco e chi fosse riuscito nell'impresa e chi fosse riuscito nell'impresa di piegare l'arco e di conficcare la freccia all'interno delle scuri verso il bersaglio sarebbe stato il suo legittimo sposo e quindi farsi riconoscere dai nemici lui nelle vesti del mendicante si finge ancora di più fragile lacero dignitoso in quella fame in quella povertà in quella pazienza in quell'attesa tutti si offrono alla prova nessuno riesce lui invece chiede umilmente tra lo scherno tra le alzate di spalle tra le beffe chiede rivolgendosi alla sovrana della casa alla destinataria di questo trofeo in un torneo che è torneo d'amore chiede di poter tirare l'arco e ci riesce lo piega e riesce a far attraversare la freccia velocemente tra le scurie ad arrivare al bersaglio la scena colpisce innanzitutto lo scherno quello che era stato l'apparecchiarsi di scherno di dileggio dei pretendenti non erano riusciti loro che sono dei nobili guerrieri poteva mai riuscire un mendicante eppure il mendicante è riuscito il mendicante il povero è colui il quale ha sgombrato da sé nel proprio interiore qualsiasi passione provate a immaginare che cosa possa significare per un uomo innamorato vedere la propria donna a pochi metri di distanza tra sé e il resto del mondo dell'universo del cosmo che si riunisce nella sala del trono pensate che cosa debba essere sgombrarsi di ogni passione essere freddo preciso inesorabile nella pazienza di cominciare a sbaragliare tutti i suoi nemici il sangue il sangue il sangue è l'elemento più caro alla parola la parola è forte quando riesce a farsi sangue la parola è teatro è messa in scena quando riesce a far sentire il fluire della vita che è sangue e questo racconto è tutto in un contrasto che il narratore all'epoca giocava su due immagini aurora dite rosate e poi invece il cielo che diventa rosso purpureo di sangue a compimento non della vendetta di Ulisse ma della riconsacrazione della casa e quel sangue riconsacra la casa però ecco l'amore l'amore è il destinatario di questo combattimento l'amore è il beneficiario di questo viaggio l'amore è l'altare dove la parola fa il suo sacrificio supremo ancora adesso lei Penelope non lo accoglie tra le braccia perché non può tradire così l'amore di Ulisse accogliendo un sì meritevole mendicante che ha superato comunque la prova e se l'ha riconosciuto Argo se l'ha riconosciuto il padre se l'ha riconosciuto la nutrice i servitori l'hanno riconosciuto l'hanno riconosciuto perfino i proci massacrati da lui perché quel sangue versato era lo specchio dove il mendicante non era più lacero ma aveva il vigore e lo splendore e lo sguardo del re Ulisse per lei ancora è il mendicante che non può in un abbraccio cancellare l'amore di Ulisse e lo farà dormire non nel suo letto ma fuori e quando lo riconoscerà lo riconoscerà quando lui che con le sue mani nodose aveva saputo replicare la perfezione nodosa del legno d'ulivo lui l'accompagnerà in quello che era stato il loro talamo e svelerà il segreto recondito di quell'amore che era stato forgiato nella perfezione di Gea la terra che aveva fatto sbocciare un albero d'ulivo là dove c'era il loro il loro talamo la loro casa e che lui con la sua abilità aveva saputo piegare per farne quindi il piede di un letto il quarto piede dove adagiare il loro talamo e lì lo riconosce e vedete è una storia che cattura che catturava che catturerà chiunque abbia ben chiare le condizioni di un'esistenza semplice affidata alla scienza più difficile ma più necessaria in assoluto che la scienza dell'omertà cioè di essere uomo senza aggettivi e quando quell'inizio ci porta al multiforme ingegno e quindi ha la necessità di raccontare Ulisse attraverso tutte le sue qualità ha le sue capacità di mettere insieme le cose ecco adesso invece adesso che finalmente ha tra le braccia Penelope sciogliendole i capelli denudandone la schiena schiudendo le labbra di lei nel bacio infinito lui è finalmente un uomo senza aggettivi un uomo tra le braccia della sua donna ed è questo nella sua nudità nella sua semplicità che da sempre ha accompagnato la storia letteraria della nostra memoria d'Occidente ed è questo che è riuscito ad essere specchio della nostra memoria letteraria con un'idea universale dell'incontro d'amore per questo ha avuto bisogno della parola perché se fosse stata scrittura sarebbe stata nevrosi se fosse stata scrittura sarebbe stata psicoanalisi sarebbe stata introspezione non jihad sarebbe stato un rovello e non invece l'urlo liberatorio del guerriero che riesce a snudare la spada e a farsi largo se fosse stata scrittura sarebbe stato quello che un tempo venivano evocati come il verminaio dei critici e dei glossatori ed è la storia bellissima di un giovane perché tale era giovane ritornò tra le braccia della sua amata in un'età per noi certamente giovane era la storia di un guerriero che riuscì a portare a compimento la sua missione in obbedienza e in dispitto con gli stessi dei e chissà ogni volta che viene evocato non si procuri il disturbo una qualunque delle loro divinità a farsi presente a manifestarsi di volta in volta quando andrete a Siracusa ad assistere alle sacre rappresentazioni delle tragedie fermatevi al molo di Ortigia indirizzate lo sguardo verso il mare osservate poi tutte le sfumature che quella baia forma quasi un'isola nell'isola offrirà il vostro sguardo ma lo sguardo è poco l'orecchio l'ascolto avrete modo di sentire come quelle acque vengono tagliate da legni avrete modo di sentire perfino il canto delle sirene avrete modo di incrociare e di incontrare un qualunque viandante un turista un villeggiante uno in ciabatte uno che magari ha ancora addosso la spugna che è sceso giù a prendersi un bagno appena lo sentirete parlare vi accorgerete che vi sta donando una storia e quella storia sarà storia di mare di viaggio di solitudine un'immensa solitudine da riempire soltanto nell'abbraccio di un amore ma siccome vi avevo promesso una malizia e approfitto pure approfitto pure di questo leggio e siccome insomma è molto di moda secondo la lezione di Carmelo Bene e non quella di Benigni volei prendere il canto di Ulisse e fare passo passo e andiamo direttamente a questa scena bellissima delle carni che vengono presi dalle fiamme rispetto al tanto mare avuto l'omaggior corno della fiamma antica cominciò a crollarsi mormorando pur come quella cui vento affatica indi la cima qua e là menando come fosse la lingua che parlasse gitto voce di fuori e disse ecco vedete ascoltate anzi Dante stesso che pure è l'apoteosi della scrittura Dante stesso fa un passo indietro e si affida ancora una volta all'oralità al puro suono cominciò a crollarsi mormorando pur come quello cui venta fatica indi la cima qua e là menando come fosse la lingua che parlasse gitto voce di fuori e disse quando mi dipartì da Circe che sottrasse me più di un anno là presso a Gaeta prima che si enea la nomasse né dolcezza di figlio né la pieta del vecchio padre né il debito amorlo qual dovea Penelope far lieta vincere potero dentro a me l'ardore chi ebbi a divenir del mondo esperto e dei vizi umani e del valore ma misi me per l'alto mare aperto sol con un legno e con quella compagna piccola dalla quale non fui diserto e c'è la presentazione che Ulisse fa a Dante offrendosi innanzitutto come padre di famiglia offrendosi dunque in quella che è l'apoteosi di un matrimonio in quella che è la sostanza della vita e sempre secondo lettura indicazione di Carmelo Bene saltando quelli che poi sono i passaggi noti andiamo alla fase finale e c'è la descrizione del contesto vedete il raccontatore il cantastorie la Edo aveva questa capacità questa possibilità quella di mettere in scena il tutto senza l'aiuto di nulla perfino l'uso dei dei tendoni dei tabelloni poi sarà considerata una una volgarità rispetto a quella che era l'arte dell'evocare tutte le stelle già dell'altro polo vedea la notte e il nostro tanto basso che non surgea fuor dal mare il suolo cinque volte era acceso e tante casso lo lume era di sotto dalla luna poiché entrati eravamo nell'alto passo quando ma parve una montagna bruna per la distanza e parve mi alta tanto quanto veduta non avea alcuna noi ci allegrammo e tosto tornò in pianto che della nuova terra un turbo nacque e percosse del legno il primo canto tre volte il fe girar con tutte l'acqua e la quarta levar la poppa in suso infin che il mar no questa e la quarta levar la poppa in suso e la prore ire in giù come altrui piacque infin che il mar fu sovra noi richiuso ho avuto un bellissimo lapsus mi sono reso conto perché sapendo della devozione pagana di Ulisse non immaginavo che Dante infilasse invece la zeppa cattolica cristiana mettendo come altrui piacque e ho voluto rinfrescare l'ascolto con questa esercitazione dantesca secondo l'insegnamento di Carmelo bene perché è la prova fondamentale della attenzione della devozione che la parola ha avuto nei confronti di Omero a dispetto della scrittura proprio perché questo è il passaggio dove più di ogni altro Dante Alighieri fa un passo indietro e cerca di dare un canovaccio da piazza da cantastorie non popolaresco nel senso del pop ai noi che ci perseguita ma nel significato proprio di radunare in ognuno di noi nel nostro cuore le emozioni e se poi dovessi dirvi quanto dentro di me e provo a immaginare quanto dentro di voi di quel capolavoro che è stato capolavoro di racconto è rimasto io vi posso dire che tutto si manifesta attraverso la pratica che la parola fa della vita quotidiana e quindi vi rivolgo degli inviti primo invito osservate il mare e bagnatevi fosse pure le mani se proprio non volete entrare coi piedi d'inverno ma piegatevi e raccogliete un po' d'acqua e poi assaporatela il mare si lascia baciare non è un caso che produca la schiuma con le onde baciate il mare assaporatelo e sentitelo nelle nari e poi bagnatevi gli occhi perché gli occhi devono essere fatti cristallo dall'acqua del mare il sale vi regalerà questa sensazione poi nella stagione giusta infilatevi nei campi dove c'è il grano infilatevi e camminate a costo di spezzare qualche spiga spezzatela poi con le mani qualcuna sempre con le mani perché con quelle mani che Ulisse piegò il nodoso legno dell'ulivo piegatelo frantumatelo e cercate i chicchi qualcuno mangiatelo attenzione non far entrare una di quelle spighe perché poi fanno male al palato però schiacciatelo e sentirete un presagio è il presagio di Hermes il dio mercurio che vi porterà dappertutto vi procurerà uno stordimento e riuscirete a vedere finalmente nelle fattezze più insolite quegli dei che amano seguirci in ogni situazione poi fate un altro esperimento cercate cercate un bellissimo tramonto cercatelo osservatelo ma soprattutto ascoltatelo ascoltatelo perché nel tramonto si sentirà qualcosa che possa assomigliare a un gemito un sospiro non 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 avrete modo di spaventarvi perché non sono fantasmi no sono i baci di Penelope e di Ulisse che fanno quel dolce suono che gli permise di superare quello delle sirene grazie 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 io vi ringrazio ringrazio il circolo dei lettori grazie grazie per questo incontro e mi congedo da voi strappando ancora una frase da questo libro bellissimo di Perroni nel ventre il favore di un dio è come la fedeltà di una sposa va accudito grazie grazie